Buonasera amici della Mondofutsal TV, siamo collegati dal Meucci di aprile per la 17 giornata di Serie C2 e Calcio a 5. Questa sera si sfideranno Eagles-Aprilia contro la Pisana. A lato, punizione abbastanza pericolosa, parte adesso Abate, a conclusione, a giro, partita comunque molto spezzettata da questi palli, parte adesso Marcucci, la conclusione! E arriva il vantaggio da parte della Pisana con Marcucci su punizione, la mette praticamente sull'angolino destro ed è vantaggio Pisana. Quindi Abate, la tocca, la tocca, ancora Herrera, sempre Abate sulla conclusione, la respinta da parte di Banchino ancora in area di rigore, Paesacchetti conclude. Quindi Graziani, aggancia la sfera, pallone che rimane lì, Taglia Cozzo, contrasse con Castelpietra, si continua a giocare con Ridolfi, Ridolfi, da conclusione il palo! Il palo da parte di Ridolfi, proseguendo ancora il contropiede con Castelpietra. Sulla verticale Gizzi, servito adesso, contrastato da Castelpietra, guarda Taglia Cozzo a tirare, Taglia Cozzo, posizione centrale, Carelli respinge, poi Ambrosino ancora Carelli e il palo! A dire due volte di no! Servito però il ritardo, quindi Squadranti recupera la sfera sulla destra, ancora Squadranti, posizione centrale, Ridolfi! Con il piattone sfiora il crocio dei pali. Occupa, c'è molto lo spazio, parte adesso, Raccioppo, conclusione, ancora Bianchini, spinge Raccioppo, conclude! E il pallone che termina sul palo! Cerca di far rispettare la distanza, appunto, l'arbitro, ancora Raccioppo, la conclusione, pallone deviato. Ancora Fierretti alla battuta, si muove in avanti Sacchetti, poi dentro Sacchetti! Ridolfi si muove in avanti Malafrica, lo serve adesso, aggancio con il destro, la conclusione, tutta al volo, sempre lancio lungo, Raccioppo, poi qui riesce a deviarla, ancora pallone per Sacchetti! Ed è qui il pareggio dell'Igols, proprio con Sacchetti, che sfrutta questo rimpallo, e si è fatto trovare pronto il numero 11. Raccioppo, trova il corridoio per Malafrica, era buono, con Mario adesso il contropiede, esce direttamente Ambrosini, che va, preiezione offensiva, la conclusione! E Bianchini respinge, quindi taglia Cozzo, ancora Marcucci, poi è detto per Malafrica, con l'esterno, fallisce il tap-in! Insomma, Malafrica rimette in gioco la sfera, ancora Marcucci, alla conclusione, si fa trovare impreparato Ambrosini, scarica poi per Carelli, passaggio centrale, ancora per Ridolfi, Ridolfi! Fabio a Castepietro, Ridolfi, ancora un ottimo intervento di Ambrosini, che tiene a galla ancora l'Igols, Marcucci, ancora Ridolfi, suddilice Herrera, serve sulla testa Malafrica, c'è spazio per lui! E alla fine, arriva il vantaggio della Pisana, con Malafrica, di punta, batte Ambrosini, la riconquista per Abate, c'è spazio per lui, c'è libero, Ferretti sulla testa, ancora Abate, Abate in attico, Abate, serve Ferretti, dentro la rete! Attenzione, attenzione, è tutto fermo però, è tutto fermo, è tutto fermo, è tutto fermo, è tutto fermo, ha fischiato il fallo in precedenza. Ferretti parte adesso, conclude, e calarete! Il pareggio dell'Igols, con Sacchetti, proprio lui, va a realizzare la doppietta, che salva l'Igols nel finale, 2-2. E finisce qui, finisce 2-2, ed è un punto d'oro questo per l'Igols, che pareggia sul finale questa partita, partita vincente, questo oggi non sono mancati i momenti tesi.